ciao segno del cancro eccoci qui allora come state cancerini voi che lottate sempre non mollate mai vediamo vediamo che cosa c'è per voi in serbo a breve termine ovviamente vediamo allora cominciamo subito con quest'oracolo dello spiriti degli spiriti degli animali e vediamo qual è il primo messaggio per voi lo spirito del tasso coraggio e audacia beh sicuramente di audacia a voi del cancro anche se a volte non sembra perché siete persone ansiose insomma siete persone sensibili però l'audacia sicuramente l'avete andiamo a vedere il messaggio specifico ve lo leggo perché non li so più che memoria allora esatto lo spirito del tasso si rallegra di fronte alla tua tenacia e al tuo impegno verso ciò che per te è autentico ed è esattamente voi siete così siete tenaci il cancro è un segno tenace questo è indubbio a prescindere da ciò che cerchi la tua tenacia la tua fede stanno dando i loro frutti e i risultati si manifesteranno presto sicuramente la vostra tenacia a volte messa a dura prova però è una qualità che è sempre premiante nel nel tempo il dono dello spirito del tasso è la certezza che assumendoti dei rischi adesso e mostrando coraggio temerialità e audacia otterrai risultati stupefacenti questo è il momento in cui devi sfruttare la tua volontà e applicarla in modo coerente per perseguire i tuoi sogni qualunque siano le diciamo attuali condizioni vostre esterne ok quindi niente praticamente ti dice di essere coraggioso e audace questo il cancro lo sa già diciamo che non è una novità per voi per voi del cancro onestamente quindi niente di nuovo lo spirito del tasso vi esorta a continuare esattamente così come siete fondamentalmente andiamo a vedere adesso qual è l'arcano maggiore quindi l'energia prevalente che avrete a breve nel breve periodo l'eremita allora segno del cancro diciamo che molti di voi nel proprio a breve insomma nel prossimo breve periodo e avranno già comunque il segno del cancro è un segno che tendenzialmente insomma sa stare anche molto da solo e ma con l'eremita c'è proprio questa quasi volontà di farlo cioè di proprio di rimanere da solo e riflettere un po sul proprio futuro molti molti segni del cancro io poi ho due cari amiche del segno del cancro quindi comunque molti del segno del cancro stanno un po valutando quella che è la loro vita loro da farsi per cambiare un po la loro vita e quindi sicuramente il segno del cancro che è già comunque un segno anche riflessivo a maggior ragione a questo diciamo da quando appunto vedrete il l'interattivo il video sarete molto molto riflessivi andiamo a vedere le prime tre carte abbiamo un 7 di bastoni il 3 di denari e il 7 di coppe allora sicuramente allora diciamo che cancerini avrete delle opportunità da valutare ok e dovrete valutarle bene ecco perché probabilmente c'è questa energia dell'eremita no molto riflessiva perché alcune potrebbero essere delle opportunità un po illusorie ok o opportunità che potrebbero poi insomma crearvi delle tensioni di cui non insomma non ne avete certo bisogno quindi fate attenzione a valutare bene quelle che possono essere in questo caso io intendo di parlo di lavoro è di realizzazione personale fate attenzione un po alle opportunità che vi si presenteranno davanti a breve a breve andiamo adesso a vedere le carte che ci sono sotto abbiamo un 9 di denari un 6 di coppe e la temperanza allora segno del cancro vi si richiede ancora pazienza ne avete tanta voi ma ancora vi viene chiesta diciamo che aprite con un'eremita e chiudete con la temperanza che è proprio la carta del tempo e della pazienza avete dei momenti di malinconia per i tempi passati in cui stavate proprio meglio avevate un benessere diciamo generale migliore e alcuni di voi hanno un po questa malinconia di questo benessere che è venuto un po a mancare e dovete pazientare un po e ancora un po sicuramente ci saranno delle opportunità dovete valutarle bene questo è l'unico accorgimento che mi viene da dirvi e per il resto cari amici del cancro dovete avere un po di pazienza ancora ok questo è il messaggio valutare bene essere riflessivi avere avere ancora un po di pazienza comunque non è detto che tra quelle opportunità che vi si presenteranno a breve non ce ne sia poi una valida ci mancherebbe quello che viene fuori è state attenti a valutarle bene ecco perché magari alcune potrebbero essere un po illusorie ok amici del cancro allora mi raccomando è tanta tenacia tanta pazienza e avanti così per chi non l'avesse ancora fatto lo invito ad iscriversi al canale a cliccare sulla campanellina io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video un vi abbraccio ciao